Chi sarà il gestore della diga di Campolattaro e che ruolo avrà la provincia di Benevento, cioè il territorio che ospita l'invaso? Sono solo alcuni degli interrogativi al centro dell'incontro promosso oggi dal Partito Democratico Sannita per fare il punto sull'opera idrica più imponente dell'Italia meridionale, finanziata per 500 milioni di euro tra PNR e fondi strutturali della regione. Il deputato del PD del Basso De Caro introduce l'argomento partendo dal commissariamento della struttura. Tutti parlano della diga e dell'invaso di Campolattaro, ma c'è un convitato di pietra che molti fingono di ignorare, è il commissario. A me fa anche sorridere che molti parlino con interlocutori diversi che sono sbagliati. L'opera è commissariata dal governo centrale. E dunque i democrat incalzano, si palese un enorme rischio beffa per il territorio. La provincia di Benevento, al momento concessionaria per uso irriguo della diga ed in quanto tale ha investito risorse per un ventennio per portare a compimento e a collaudo l'opera, viene messa alla porta nel momento in cui l'opera inizia il suo ciclo produttivo. C'è da discutere quest'opera a beneficio di chi va, sapendo che vi è almeno una duplice utilizzazione in questo momento, una irrigua e l'altra umana. Sapendo che ve ne può essere una terza idroelettrica, la quale utilizzazione idroelettrica accade in un momento nel quale sul piano nazionale c'è la necessità di fonti energetiche alternative.